E c'è la coppia, la mia stella Tutto da cantare 15 e un minuto Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare Oggi parliamo di un'azienda che investe per sostenere e promuovere lo stile della ristorazione Lo facciamo con Alberto Gaio che è amministratore delegato Allora, non sostanzialmente siamo una società che sta in investimento E molte volte abbiamo una società nuova E una società in forme minoritarie Il socio è un socio che invece opererà in attività di ristorazione Mi consegue che il socio ha delle attività operative Mentre invece noi ci prendiamo